Siamo presso la sede di Bismatica, società della new economy italiana, nata una decina d'anni fa, oggi con 130 dipendenti, 15 milioni di fatturato e un'attività completamente orientata sulle nuove soluzioni dell'IT. Ma siamo qui in particolare per parlare di una delle linee operative di Bismatica, quella di System Integrator che in questo momento è trainata dal lancio di un nuovo prodotto che è OnStage. Di questo parliamo con Max Bulling, partner di Bismatica. Grazie. Sì, OnStage è la soluzione che Bismatica propone al mercato per il Customer Experience Management, ovvero OnStage è una piattaforma che consente alle aziende, e qui parliamo di aziende che hanno ovviamente un numero di clienti importante, di realizzare un servizio di gestione del cliente, quindi di Customer Management, su tutto il suo ciclo di vita, che copre quindi sia il marketing che la vendita, che il Customer Care, con un sistema multicanale che garantisce al cliente un'esperienza consistente e fornisce all'azienda la capacità di essere molto vicino al cliente, seppur attraverso canali innovativi. Come nasce OnStage? Cosa è costato mettere in piedi questo nuovo servizio? Quali competenze ha coinvolto? E quali sono le possibili linee di sviluppo? OnStage è un prodotto che noi abbiamo realizzato in anni di esperienza, ovviamente su grandi progetti realizzati con partner di aziende oltreoceano e direi di partner internazionali, con le quali abbiamo realizzato importanti progetti con clienti in ambiti molto disparati, quindi parliamo di applicazioni mobili, parliamo di sistemi di contact center, parliamo di sistemi di self-care proprio orientati alla riduzione dei costi e al miglioramento dell'efficacia del servizio del caring. OnStage è nato proprio da tutte queste esperienze come un investimento interno che noi abbiamo realizzato per creare proprio un orchestratore di tecnologie in grado di dare all'azienda uno strumento potente per garantire e consentire al suo cliente di avere una migliore esperienza. Quindi l'obiettivo di OnStage è quello di essere sicuramente un elemento che riesce a migliorare quello che le aziende oggi hanno già, quindi gli investimenti già effettuati, in termini proprio di percezione della qualità del servizio da parte del cliente stesso. E la nostra evoluzione ovviamente è quella legata alle evoluzioni che il mercato, soprattutto quello che sta accadendo nel mercato consumer e quello che è accaduto nel mercato consumer, ad esempio a livello di smartphone, impone come modello di riferimento alle aziende e quindi la grande impresa oggi si trova a dialogare con un cliente che tendenzialmente ha acquisito la tecnologia, tecnologie innovative come quella degli smartphone, li utilizza correntemente e quindi vuole avere una risposta adeguata alle sue aspettative. E quindi, diciamo, OnStage oggi si sta muovendo nell'ottica di, ed ha lanciato un componente nuovo che è appunto OnStage Mobile, che è la componente mobile della nostra piattaforma. Ecco, quanto la compatibilità con i vari sistemi e quanto l'apertura, quindi la flessibilità a sviluppi tecnologici successivi viene, come dire, contemplata oggi nel prodotto che voi avete appena lanciato? Dunque, il prodotto che abbiamo lanciato è un'estensione della nostra piattaforma OnStage, che di fatto ha la capacità di interfacciarsi con tutti i sistemi esistenti o perlomeno tutti quelli che hanno di fatto la leadership nel mercato. E quindi parliamo di applicazioni web realizzate con i sistemi più, diciamo, diffusi, parliamo di applicazioni di sistemi di contact center, ad esempio, parliamo di sistemi di self-care e di knowledge management, parliamo di sistemi che accedono a dati transazionali che sono importanti ai fini della relazione col cliente, ad esempio la visibilità delle ultime fatture che l'azienda ha emesso verso i miei confronti. Il mobile, quindi la componente mobile, di fatto accede a tutte le funzionalità di OnStage, per cui estende tutto quello che prima era disponibile a livello di web, a livello di sistemi automatici di risposta sui contact center tradizionali e a livello di applicazioni specifiche al mobile. Quindi di fatto mi consente su tutte le piattaforme, quindi iOS, Apple iOS, Google Android, Windows Phone e anche BlackBerry RIM, che sono le quattro piattaforme sulle quali noi abbiamo investito con questa piattaforma, di trasferire il 100% delle funzionalità disponibili da OnStage verso il cliente finale su questa piattaforma smartphone. Quanto pesa per OnStage il fatto di fare le cose vecchie in modo nuovo o il fatto di consentire addirittura di fare cose nuove che prima non potevano essere fatte? Ecco, diciamo che l'elemento chiave di OnStage è quello di essere una piattaforma che consente di fare cose nuove con quello che le aziende, utilizzando gli investimenti che le aziende hanno già effettuato. Lei consideri che oggi, ad esempio, quando si parla di multicanalità, si parla spesso di soluzioni che danno al cliente una percezione del servizio molto diversa su canali differenti e che sicuramente sono viste in modo monolitico l'uno rispetto agli altri. Quindi se io ho un contatto a livello di contact center, questo tendenzialmente non tiene conto di quello che io ho appena fatto sul web, sul mio portale. Questa è una barriera che OnStage supera, proprio perché armonizza meglio, se vogliamo, le informazioni che l'azienda ha rispetto ai diversi canali per fornire una risposta precisa, attenta, che ovviamente poi si traduce per l'azienda in qualità del servizio rispetto al cliente, maggior vendita, perché questo è uno dei temi principali, ovviamente quindi non telemarketing impazzito ma diciamo proposte profilate e raggiunge l'apice con OnStage Mobile che è di fatto una finestra dell'azienda sul mio smartphone che mi consente di accedere a quasi tutte le informazioni e i servizi che l'azienda richiedo normalmente attraverso canali tradizionali come un contact center in un modo integrato, rapido, veloce, che mi consente addirittura di acquistare alcuni servizi e prodotti direttamente senza dover utilizzare le tecnologie tradizionali. Vorrei, come dire, spostare l'attenzione su un piccolo aspetto umano. I vantaggi per le aziende che usano OnStage sono evidenti. Lei poco fa accennava all'experience, che è la parola magica a cui tutti ci rifacciamo. Mi pare che l'uso di OnStage modifichi anche l'experience dell'operatore. Cambia un po' il rapporto col proprio lavoro in questo caso? Guardi, noi parliamo con molte aziende, soprattutto grandi aziende, e a volte ci siamo resi conto, e questo è stato uno dei motivi per cui abbiamo fatto un ascere OnStage, che molto spesso i ragionamenti che vengono fatti all'interno delle aziende, che sono tutti, se vuole, formalmente corretti, nel senso che magari vanno nella direzione del ridurre i costi, del migliorare, magari tentare di migliorare la customer satisfaction attraverso sistemi tradizionali, a volte non tengono conto di elementi banali, perché quando noi parliamo di customer satisfaction, questo significa che, ad esempio, e diciamo che in realtà gli operatori al contasente devono rispondere molto rapidamente, perché se io telefono voglio che qualcuno mi risponda rapidamente. Non è detto che questo sia il miglior modo col quale il cliente percepisce il servizio. Probabilmente fornirgli un'interfaccia dove in autonomia, in modo molto rapido, magari utilizzando anche sistemi vocali, ad esempio, io faccio una richiesta all'azienda e ottengo una risposta, è forse il sistema migliore e non è necessariamente detto che rappresenti un costo più alto di quello che rappresenta oggi un canale tradizionale. Per cui, per rispondere alla sua domanda, OnStage è sicuramente una piattaforma che ragiona nell'ottica della customer experience, quindi nasce proprio per evitare che il cliente si trovi disorientato su canali diversi e invece gli fornisce a tre livelli un modello di self-care, che vuol dire self-provisioning di servizi, self-care nel senso che io ottengo informazioni, quelle che volevo, senza dover necessariamente parlare con un operatore, anche se mi risponde subito, senza necessariamente dovermi connettere al web, perché oggi non lo posso fare, oppure sul mio tablet o sul mio smartphone non è così comodo farlo. Però mi consenta anche poi di parlare col contact center, avendo un interlocutore che sa quello che io ho fatto prima e che ho fatto magari ieri, su canali diversi, e arrivi poi fino all'alimento vendita, che è dove l'azienda troverà grandi sorprese nel scoprire che quando un prodotto viene proposto nel momento giusto, le percentuali passano dall'1-2% al 40% di successo. Quindi questo è un elemento però anche di customer experience, perché anche il cliente sente quell'offerta proposta nel momento giusto, un elemento di valore, non di disturbo. Bene, abbiamo parlato di OnStage, un servizio innovativo, e ne abbiamo parlato con Max Bulling, partner di Bizmatica. Grazie. Grazie a voi, grazie.